ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi vi propongo un make up in collaborazione con il gruppo di telegram di cui ne faccio parte per questa collaborazione con fabiana abbiamo deciso e le altre ragazze ovviamente abbiamo deciso di fare un make up ispirato alla befana però ovviamente alla befana dei nostri tempi quindi una befana abbastanza sexy quindi andiamo a fare questo make up io come sempre inizio dagli occhi perché mi viene meglio ogni volta che inizio a fare il video ho il vuoto totale di dove sono i prodotti comunque metto il solito correttore su tutta la palpebra e vediamo cosa combiniamo con questo make up io di solito metto alcuni prodotti qui nella mia postazione proprio al di fuori dei cassetti e tutto e poi utilizzo o cerco sempre qualcosa che invece è messa da tutt'altra parte allora come faccio sempre opacizzo la mia palpebra però questa volta ho intenzione di opacizzare soltanto la palpebra fissa lasciando diciamo un po appiccicosa la palpebra mobile vediamo se questo esperimento vale o diciamo una cioffreca mi servirebbe un pennellozzo il mio pennellozzo dov'è il mio pennellozzo eccolo qua il mio pennellozzo allora utilizzo il pennello questo qui di sephora e lo applico solo nella palpebra mobile e nella palpebra fissa e non quella mobile allora per quanto riguarda questo make up utilizzerò la palettina della smash box questa che fa il gioco con la scritta è il tipo l'esplosione bellissima veramente molto molto bella e questa si chiama punk e palette questo è il nome ve lo faccio vedere comunque come sempre trovate tutto giù nell'info box sapete tutti che ha uno specchietto e questi sono i prodotti allora io andrei a prendere questo color carne qui scuro e lo applico come piega dell'occhio sulla piega dell'occhio vorrei utilizzare con voi i pennelli di nabla vediamo come sono pennello sfumatura questo gli anni sì anni allora che sarebbe questo qui piccolino voglio vedere come viene visto che ho comprato un altro set allora teniamo l'occhio aperto e questa è la mia piega e allora pennello bellissimo mi piace se sì mi piace l'applicazione già poi la morbidezza di questi pennelli che vogliamo dire io al contrario di molte persone come sfumatura c'è nel senso come ombretto per la piega dell'occhio preferisco il color top o malva scuri io sono in fissa con questi vedo che questi colori mi stanno bene quindi li utilizzo allora al di sopra invece metterò questo rosellino questo qua e sfumerò la parte dove applicato precedentemente l'ombretto e mi serve un pennello da sfumatura semplicissimo proprio per sfumare il bordo allora invece all'attaccatura dell'occhio all'attaccatura nella codina diciamo dell'occhio voglio mettere un colore siccome non mi piace proprio il nero come colore sui miei occhi io andrei a mettere questo grigio questo grigio qua lo andrò a mettere proprio in questo punto vediamo come viene e poi lo trascino fino a metà occhio poi lo andremo a sfumare e questo ombretto darà molta profondità per quanto riguarda il nostro occhio poi per quanto riguarda all'ombretto io avevo intenzione di utilizzare un ombretto molto particolare che è questo ed è di wicon però voglio vedere se ci sta perché da sul nero allora a me piace tantissimo perché non mi vedete spesso utilizzare questi tipi di ombretti e sinceramente mi piace questo è un vecchio ombretto della wicon e vediamo come viene ovviamente dobbiamo fare una befana deve essere una befana abbastanza che da diciamo che viene notata subito quindi vediamo come viene io mi ricordavo bene che questo ombretto faceva fallout infatti lo sto ritrovando anche qua giù questo è l'ombretto però voglio vedere se visto che è un ombretto cotto voglio vedere se gli spruzzo un po di fix plus di fix vediamo come diventa direi che va meglio anche se avrei preferito qualcosa di più pigmentato anzi ora al di sopra andremo a mettere qualche ombretto proprio al centro della della palpebra già così piace perché è difficile che faccio questi makeup però volevo anche qualcosa di di più borgogna vediamo aggiungo questo color borgogna qua e lo aggiungo per vedere se mi da un po di colorito io direi di lasciarlo nero voi che ne dite cosa ne pensate peccato che non potete suggerire perché mi piacerebbe tanto sentire il vostro suggerimento io direi di lasciarlo così metterò adesso una matita nera all'interno dell'occhio e poi faremo la parte di sotto io la c'era è proprio nero mi piace questo effetto di nero non so allora metteremo la matita della essence la temperiamo a me non durano tantissimo le matite però ok matita nera messa adesso andremo a mettere il mascara proprio per vedere come queste ciglia sono diventate a me piace io sarò di parte lo so ma a me piace alcuni hanno paura di questo strumento io lo adoro piegaciglia lo adoro andremo a mettere il mascara di essence che sapete che è il mio paretere brevi brevi preferito e adesso andiamo a pulirci con la salviettina andiamo a pulirci con la salviettina perché ho lasciato tutte ma qualche altro io preferisco sempre fare gli occhi e dopo la base e proprio per questo motivo allora va bene a me gli piacciono ditemi voi se vi piace o non vi piace allora ovviamente dobbiamo mettere crema e fondotinta per quanto riguarda crema e fondotinta sapete tutti il passaggio che io di norma faccio quindi vado a mettere il tutto e noi ci vediamo dopo allora ho finito di fare la base non ho messo correttore niente perché un po di di befana lo devo avere quindi la befana delle occhiaie pazzesche perché non dorme la notte adesso andremo a mettere il viola questo viola acqua viola questo borgogna qua lo andremo a mettere anche al di sotto e mi serve un pennellino andremo a mettere anche al di sotto metterò all'interno dell'occhio l'ombretto nero come una volta aveva detto anche clio visto che a me non dura per niente di applicare l'ombretto nero proprio per aiutarsi a far rimanere il nero il nero qualsiasi altro ombretto perché come vedete già da questo lato si è anche tolto quindi applichiamo io di solito applico le liner però quelle in gel ovviamente che ride nel senso applico quelle in gel perché mi dura di più niente io direi che gli occhietti sono perfetti così come sono voi cosa ne dite proprio questo sguardo così voglio un secondo sistemare questa parte perché vedo che c'è un po di distacco bagno di nuovo il pennello e applico di nuovo l'ombretto allora se l'ombretto lo dovete proprio bagnare per dargli molta più intensità vedete questa parte lucida sì mi piace di più mi piace di più mi piace di più allora andiamo a mettere il blush come blush volevo mettere allora visto che gli occhi sono abbastanza diciamo forte come blush metteremo qualcosa di più soft e prendo questa palettina di kiko questa qua che era un'edizione sommi sbaglio limitata dove all'interno troviamo l'illuminante e il blush quindi andiamo a mettere il blush mezzo sorriso io ho delle gote abbastanza pronunciate in famiglia abbiamo tutte le gote pronunciate quando ridiamo si nota subito io vorrei chiedervi una cosa avete un sacco di pennelli perché utilizzate sempre gli stessi io non mi sono data una spiegazione forse mi trovo sempre bene con quelli io da quando mi ho iniziato a truccarmi ho utilizzato questi della real techniques io sto utilizzando sempre quelli della real techniques perché dico io ho tantissimi pennelli allora andiamo a prendere l'illuminante che sarebbe questo che da sempre un loggero colorito sì non è proprio un illuminante scuro no mi serve qualcosa da illuminare queste parete visto che mi devono vedere vogliono un illuminante che mi si vede vabbè posso prendere anche questo questo qua anzi c'era quello della c'era l'illuminante di credo che come vista dal cielo dovrebbe essere questo giusto come illuminante metterò questo qui della nyx che il duo chrome chromatic questo non l'ho mai utilizzato andiamo a metterlo vediamo se riescono a vedermi dell'alto io credo che si veda mi vedete rispondete mi vedete se non rispondete io ne applico qui a bizzeffa allora per quanto riguarda il makeup viso è finito cosa preferisce la befana cosa allora io essendo befana preferisco un rossetto che sia particolare quindi vado a scegliere il mio rossetto questo è il makeup completato sicuramente se mi sono avvicinata ovviamente si taglierà quindi vedrete la parte finale ho messo su tutte le labbra scusate il romano e la serie ho messo su tutte le labbra la matita della essence quella degli occhi quindi la matita è nera perché volevo una base abbastanza particolare per mettere sopra il rossetto di mac che sarebbe questo nella colorazione questo è un frost on and on che sarebbe questo qua potete mettere anche una base viola qualsiasi base perché questo è un rossetto pieno di glitter di tutti i colori sarebbe la stessa colorazione del blue brown di mac cioè il pigmento blue brown e quindi hanno fatto il rossetto identico a me piace tantissimo questa idea ditemi cosa ne pensate adesso tutto il rossetto andrà sui denti ma non fa niente questi sono i capelli e niente ragazze che dirvi a me è piaciuta tantissimo questa collaborazione io ringrazio tantissimo Fabiana e tutte le ragazze che hanno partecipato del gruppo di telegram vi mando un grossissimo bacio e niente che dirvi io vado a prepararmi nel senso metterò i pantaloni accenderò la scopa e andremo subito a volare nel cielo così da portare il carbone a chi se lo merita e i dolcetti a chi se lo merita ovviamente niente che dire io e il mio cappello vi salutiamo vi mandiamo un grossissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao